fantastico ma ci abbiamo degli ospiti assolutamente in mala vita grazie di essere qui Michael è il cantante che parla un po' di italiano e ci aiuterà e non solo italiano fra l'altro parla almeno cinque e sei lingue e canta in cinque e sei lingue diverse infatti il loro sound è molto metto in pot potremmo dire assolutamente noi siamo un gruppo di abbiamo tutti diverse culture diverse radici viviamo in olanda ma quasi tutti siamo da diversi paesi come il balcani serbia bosnia io sono italo olandese e sono di madre italiana padro olandese e noi vivendo lì usiamo tutte le delle culture che possiamo nella nostra musica grandioso ma si sente perché certo ma anche l'olanda è un paese molto molto culturale e questo ci piace e noi vogliamo usare questo nella musica per 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 noi è una cosa logica è una cosa naturale non non ce ne pensiamo troppo lo facciamo quando noi facciamo delle canzoni lo facciamo così organico mi capisci naturalmente naturalmente ma e vi riesce anche bene ma non vogliamo suonare la musica come fanno i americani come fanno i gruppi di inghilterra noi siamo noi proprio noi si sente dal vostro sound ma michelle che è accanto a me di 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 came another time here in italy di sapere che michelle era il batterista l'ex batterista degli urban dance squad che hanno già suonato molte volte qui in italia e dice che è veramente contento di essere nuovamente qui e soprattutto arezzo wave perché è un ha detto molto cool molto cool e in effetti è vero perché sta scendendo la notte qui ad arezzo allo stadio di arezzo e arezzo sta prendendo il volo in questa meravigliosa notte stiamo aspettando il teatro degli orrori che dire costanza è una domanda per il cantante vedo questa maglietta di mano negra ma mi sembra che anche malavida il vostro nome forse viene da una canzone di mano negra la mano negra è il gruppo di che mi ha ispirato di fare questa musica assolutamente forse 12 13 anni fa io volevo iniziare un gruppo una banda io cercavo dei musicisti che erano fan del del mestizzo della musica mestiza non si dice in spagnolo e il mano negra sono sempre il gruppo che ha iniziato questo questa onda di di una nuova musica in europa ma non solo in europa in tutto il mondo latinoamerica rimangono sempre una respirazione il tuo cuore diciamo esatto ma senti vedendovi sul palco si respira come una un'atmosfera di festa è come se mi venivano in mente anche film di custurizza per esempio cioè il voler far far star bene la gente voler far divertirla la gente è un diverso modo di esprimerti nodi di far scatenarsi lasciare vedere tutto fare la musica e prendere la gente no è quello che facciamo e tentiamo di fare ma io posso dire che anche anche oggi io credo che ci siamo riusciti per noi per prima volta in italia se non non posso dire quanto siamo felici veramente e ci siamo riusciti anche qui credo è proprio la prima volta che venite in italia avete visto avete girato nare personale io ho visto qualcosa vi è piaciuto qualcosa in particolare certo ma io quasi una parte della mia gioventù io sono stato in toscana perché le mie madre di siena allora conosco molto bene la toscana e questo io sono così felice che la prima volta che suoniamo in italia sia in toscana il perfetto veramente perfetto e sì ma ogni occasione che abbiamo per girare un po qui lo facciamo sicuramente sì bene perfetto michael ci vuoi presentare la tua band vostra ben sto è milio fisarmonica di bosnia sto è michele non c'è bisogno di presentarlo davor gitarra serbia eric jambos bassista bravissimi bravissimi complimenti nel frattempo qui dietro rumoreggiano inneggiando il teatro degli orrori io costanza se ti chiederei un'ultima domanda io preparo preparo la chicca su caparezza perfetto va bene vi faccio un'ultima domanda te sei appunto italo olandese se c'è qualcosa che ti piace particolarmente nella musica italiana c'è qualche gruppo anche nel passato un grandissimo fan di caparezza io sono veramente lui io sempre ascolto la sua musica in olanda anche perché è difficile incontrare la musica italiana in olanda sono naturalmente sono cresciuto con adria lanciano le vecchie cose no ma anche la nuova musica italiana mi piace un sacco in modena city ramblers banda bardo forse saranno qui l'ultima sera ricordiamolo domenica sera chiuderanno proprio il main stage una cosa bella io come sei anni fa ero con lui e anche con altri del gruppo noi volevamo andare ad arezzo a vederli banda bardo noi abbiamo viaggiato come più di mille mila chilometri per arrivare qui eravamo più tardi avevamo sentito solo gli ultimi tre accordi di banda bardo adesso siamo finalmente qua quindi riuscirete a vederli resterete qui fino a domenica no dobbiamo andare grossietto domani per fare un certo lì e poi il quindici a noi 14 a torino poi dobbiamo tornare a olanda per fare i dei festival la vabbè allora la prossima volta con la banda band sicuramente lo diremo comunque quando l'intervista lo fai per favore sì bene intanto la clip su caparezza è pronta io però volevo subito salutare i nostri 4 mila errutti utenti internauti che ci stanno seguendo grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti